Stim a domani Ok, siamo pronti di nuovo E non dimenticate l'appuntamento dell'ultimo dell'anno qui Nicky Siano Direttamente dallo studio 54 di New York Molti, molti anni fa Solo per noi Prima data esclusiva in Italia Ultimo dell'anno qui Stim a domani Qui Right now Ok, ok Ah 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 Wow 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 Ah Oh Ah 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.